Musica Danilo Soddimo, grande prestazione conduita da un gol meraviglioso a Varese Sì, io penso che la prestazione sia stata di tutta la squadra una grande prestazione anche se, ripeto, nel secondo tempo siamo un po' calati, penso a livello un po' fisico ma loro comunque erano una grande squadra in campo, si idea che andavano quasi a mille quindi ci hanno messo molto in difficoltà la prestazione penso ci sia stata, abbiamo saputo tenere un po' a botta a tutto anche Pinna ha fatto grandi parate e quindi anche i meriti vanno anche a lui oltre al mio collo Sul piano personale, dopo alcune apparizioni non brillanti sulla fascia da guastatore dietro l'unica punta Sansovini, una prestazione maiuscola e quello è il ruolo che gradisci di più A parte il ruolo io mi metto sempre a disposizione della squadra e del mister poi personalmente è normale che forse mi trovo meglio perché comunque sia mi trovo sempre al centro del gioco sia in fase offensiva che in quella difensiva però dove vengo schierato per me va bene, cerco di dare sempre il meglio Il Pescara ha in sei partite ufficiali contando anche la Coppa Italia tre sconfitte e tre pareggi, manca dunque la prima vittoria stagionale può costituire questa assenza della vittoria un handicap a livello psicologico che vi può penalizzare? Le prestazioni ci sono state, poi purtroppo non sempre va come voi due e quindi io penso che piano piano con il lavoro e con il sacrificio arriveremo anche ad ottenere dei punti importanti la categoria è nuova, non per tutti però è una categoria importante abbastanza difficile a confronto dell'anno scorso e lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi Sabato c'è la sfida con il Torino una big del campionato che completa il trittico terribile delle partite in casa del Pescara cosa c'è da temere del Torino e cosa il Pescara può esprimere per mettere in difficoltà i Granata? Nulla a togliere agli avversari però io penso sempre a noi perché penso che finora non è che ho visto grandi squadre che ci hanno messo sotto ci sono state delle occasioni che hanno avuto e le hanno sapute sfruttare però le prestazioni da parte nostra ci sono sempre state quindi se continuiamo su questa strada prima o poi raggiungeremo anche noi i tre punti Grazie